Nel Vallo di Diano i comuni stanno attivando diversi servizi a sostegno della popolazione in questo periodo di emergenza legato alla seconda ondata Covid. A Polla l'amministrazione comunale organizzato in collaborazione con la sezione locale della Croce Rossa italiana l'iniziativa Resta a casa, farmaci e spesa te li portiamo noi, un servizio dedicato alle persone anziane, fragili e immunodepresse che potranno richiedere la consegna a domicilio di farmaci o generi di prima necessità. È possibile contattare il medico di base e prenotare i farmaci oppure contattare il proprio negoziante di fiducia per comunicare la lista della spesa. I volontari della Croce Rossa si recheranno a ritirare farmaci e spesa che poi saranno consegnati direttamente a casa degli interessati. La consegna sarà concordata con i volontari. Il numero per ricevere l'assistenza è il 377 38 88 179, attivo da lunedì a sabato. A Sassano invece il comune è istituito lo sportello InfoCovid. Attraverso numero telefonico dedicato i cittadini in difficoltà potranno chiedere assistenza anche domiciliare per i fabbisogni quotidiani e un servizio completamente gratuito che viene assicurato dall'ufficio servizi sociali in collaborazione con il centro operativo comunale e con il supporto delle associazioni di volontariato Ampas ed Orchidea, nonché con le farmacie Borgia e Trotta. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65, a coloro che vivono da soli e a quanti si trovino in difficoltà socio-economica. Il numero di InfoCovid è 0975 78809 ed è attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 30. I cittadini potranno ad esempio ricevere assistenza per gli acquisti di generi alimentari e di farmaci o per la loro prescrizione con la consegna a domicilio, ma anche per il pagamento di utenze e di altre incombenze presso gli sportelli postali o bancari.